Attraverso la danza ogni popolo esprime la propria cultura, le proprie tradizioni, suoni, ritmi, passi che si tramandano di generazione in generazione. Con il webinar Danze dal mondo impareremo le coreografie e i passi delle danze popolari più famose di paesi europei ed extraeuropei e impareremo come insegnare ai bambini queste danze molto famose. Attraverso le danze popolari i bambini impareranno a sviluppare le capacità motorie di base, la coordinazione, il ritmo, l'espressività e nello stesso tempo impareranno a conoscere la storia di paesi vicini e lontani. Ti aspetto al prossimo webinar Danze dal mondo.